La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. E' sotto gli occhi di tutti che le misure intraprese in molti paesi, ma l'esempio più eclatante è proprio il caso Italia, non siano mirate al semplice contenimento del virus, ma è evidente che siamo di fronte ad imposizioni funzionali a stravolgere sotto al naso dei popoli occidentali il loro modello sociale, economico, politico, a mettere in quarantena i processi democratici, a stravolgere i rapporti umani, il modello educativo, i rapporti interpersonali e perfino quelli familiari. Una operazione planetaria, un grande reset mirato ad imporre un nuovo modello di controllo orwelliano, funzionale al piano delle grandi oligarchie mondialiste, che ambiscono da tempo all'istituzione di un nuovo ordine mondiale. Così lo chiamava lo stesso Henry Kissinger sulla copertina del suo libro, dove gli interessi dei popoli debbano cedere il posto agli interessi dei grandi cartelli, degli shareholders, e dove le crisi e gli shock esterni, come la pandemia, servano per mettere il popolo nelle condizioni di accettare passivamente misure che altrimenti non accetterebbe mai, mai, così come l'inesorabile cambio di paradigma sociale. Le elite occidentali si sono ormai rese conto che il loro concetto di capitalismo e globalizzazione non è più compatibile con democrazia e diritti sociali, perché questi gli impediscono di competere con il modello cinese, che invece è fondato su un dirigismo economico totalitario. Come avrebbero risposto allora le oligarchie capitaliste americane ed europee e di grandi cartelli a questa minaccia? Avrebbero messo a rischio la loro leadership globale per preservare i principi costituzionali e democratici e per fare gli interessi dei popoli e degli stati? Bene, la risposta è assolutamente no. Ecco perché serviva loro un grande reset. Ma questo cambio di paradigma non poteva più essere indotto su base nazionale, come era avvenuto in passato per il cambio del modello economico. Tutto doveva avvenire su base planetaria. Serviva quindi qualcosa capace di mandare, in un sol colpo, tutte le democrazie occidentali in quarantena e di spostare ogni singolo potere dagli stati nazionali alle grandi organizzazioni mondialiste che sfuggono a qualsiasi controllo democratico. Un obiettivo che si poteva raggiungere solo attraverso l'uso strumentale della paura e della minaccia di un nemico esterno. Meglio se invisibile come il Covid-19. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.